prendiamo una bottiglietta e la mettiamo pure qua facciamo fin che siamo persone normali due penne ma mica possiamo fare gli schemi noi la gente mica lo sa che non sa scrivere bravo hai ragione una barzelletta faremo oggi qua noi i punti quali sono? i punti cardinali poi c'è il punto papale punto a croce poi c'è il punto di vista poi c'è l'ultimo per chiudere il punto in basso va bene? se no già sto su dai pronto? siamo pronti? noi abbiamo sparato le cazzate ma stiamo registrando già? no delle cazzate che avevamo sparato perché sai queste cose le registrano prima e poi perfetto poi ti metto in mezzanattina voglio andare grazie 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 grazie